Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Prima di iniziare a pensare al futuro, il città di Teramo è proiettato verso la Coppa Mancini, ultima sfida di questa stagione. La Coppa Mancini, intitolata il primo presidente del Comitato Regionale Abruzzo, si disputerà sabato 29 aprile alle 15.30 sul neutro di Francavilla a Mare. Nell'occasione i biancorossi affronteranno in un triangolare il Casalbordino e il Celano, squadre vincitrici rispettivamente dei gironi A e C di promozione. Si giocheranno tre sfide da 45 minuti ciascuno, si disputeranno i calci di rigore in caso di parità, si assegneranno tre punti per la vittoria nei 45 minuti, due per la vittoria ai calci di rigore e un punto per la sconfitta. La Lega di Lettanti Abruzzese dovrà stabilire nei prossimi giorni l'ordine di svolgimento delle mini partite di questo triangolare e comunicare il numero dei biglietti e le modalità di acquisto per i tifosi biancorossi. La squadra di Pomante ieri ha svolto un allenamento appoggio degli Ulivi, terminato in parità 2-2. Lavoro differenziato per il capitano Ivan Speranza con qualche acciacco fisico, mentre tutti gli altri della Rosa, tranne Marco Antonelli, hanno preso parte all'allenamento. Oggi alle 14.30 i biancorossi torneranno ad allenarsi al Besso di San Nicolò. Nel frattempo il DS Paolo D'Ercole, insieme al tecnico Marco Pomante, hanno iniziato a visionare un elenco di calciatori con precedenza agli under per il prossimo campionato di eccellenza, anche se ogni scelta è condizionata a cosa accadrà in società. Entro il mese di maggio è attesa una conferenza stampa in cui ci potrebbero essere delle novità sul fronte societario.